Roberta ha un'iniziativa innovativa per promuovere il Negromaro utilizzando un'arte come il cinema, giusto? È vero che ogni espressione d'arte bisogna comunque o si esprime o bisogna promuoverla nel miglior modo possibile. Fare vino è un'arte, fare cinema è un'arte e quindi abbiamo unito queste due forme espressive per portare il Negromaro in giro attraverso una rassegna cinematografica. Ma che ci azzecca il Negromaro con voi? Che cosa ci azzecca? Che cosa andiamo a realizzare? Ci azzecca perché io sto più con il Negromaro che con Fabiano, eppure ci lavoriamo, siamo amici. Ci azzecca per una direzione artistica illegittimamente accordata, ma che comunque noi abbiamo tentato di portare in porto. Lo capiremo domani sera quando si porrà in essere la parte finale del nostro lavoro, che è naturalmente nella serata di proclamazione del corto vincitore in questo Negromaro Short Movie Contest, che è uno dei nomi più difficili di manifestazioni alle quali si è stato... In Salentino, in Salentino, titolo salentinissimo. Comunque sì, non so se la sede è giusta, ma vorrei ringraziare la Regione, le quattro cantine sostenitrici del progetto e tutti i registi che vi hanno partecipato, non a voi, dico vi al concorso, però si dice vi, non è colpa mia Fabiano. Sì, abbiamo avuto tantissimi cortometraggi, quando siamo partiti non sapevamo come sarebbe andata, però devo dire che la partecipazione è stata fortissima e quindi è stata anche complicata la scelta, perché alla fine c'erano talmente tanti che abbiamo dovuto scegliere 5, con giuria assolutamente qualificatissima. Ci sono state 3 giuria addirittura, una per la selezione dei 5, poi c'è stata la giuria popolare, anzi 4 giuri, quella popolare con i voti direttamente su internet, perché noi siamo moderni e quindi i voti erano su internet. Una ha telefono a gettoni e l'altra con le valette. Poi c'è stata un'altra giuria, una giuria speciale che ha scelto chi doveva essere il vincitore di un altro dei premi. E' quella tecnica venerdì, al paesiello. E' quella tecnica presieduta da grandissimo Maurizio Micheli. Ci taglia, non ci taglia. E quindi ci vediamo presto. Stanno tagliando, già stanno tagliando. Tanto questo non abbiamo, perché già tagliando. No, possiamo continuare, ma è tagliato. Stanno sfumando, stanno sfumando. Vai di là, vai di là, vai di là. L'enologo romano, Conti Zecca. Il Negromaro è presentato in maniera diversa dal solito con l'emozione di un'arte con il cinema. Perché? Certamente il Negromaro rappresenta il territorio del Salento sotto tutti i punti di vista, in particolare Lecce. Lecce è anche una città legata molto al mondo dell'arte, al barocco, ma tutte le espressioni artistiche. Per cui questo ci sembrava anche un'occasione ottima per poter portare avanti, diciamo, questo vitigno che ci rappresenta in maniera importante. Ed ecco qui con noi il più votato da Facebook, il più popolare. Chi sei? Che cosa hai presentato? Come ti è venuto in mente? Sono Antonio Verardi e ho vinto il voto popolare per l'attesa più bella. È un cortometraggio in cui l'amore per il vino e l'amore per l'attesa di un figlio si conigliano alla perfezione. È un cortometraggio uscito così grazie anche al lavoro di equip, tutta la squadra che ha supportato anche la realizzazione del cortometraggio. Grazie a tutti.